E' iniziato con una celebrazione eucaristica solenne presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Nunnari, il novenario in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città di Cosenza. La devozione alla Madonna nasce con il cristianessimo a Cosenza e il culto poi alla Madonna del Pilerio inizia con il celebre miracolo della peste il 1576, ma la devozione alla Vergine Santa è stata sempre una nota distintiva della fede dei Cosenzini. Il 1576 poi il miracolo della peste, quando i Cosenzini attribuirono alla Madonna la salvezza della peste, è una data che in qualche modo segna l'inizio di un culto nuovo in onore della Madonna del Pilerio, che poi si rafforza ulteriormente nei secoli. Prima di tutto viene istituita dai nobili del tempo nel 1798 la festa ufficiale della Madonna da celebrarsi l'8 settembre, poi in seguito al terremoto del 12 febbraio del 1854 i Cosenzini ottennero una seconda festa detta del patrocinio da celebrarsi il 12 febbraio di ogni anno e iniziò questa festa a celebrarsi il 1855 e ancora oggi si celebra con grande fervore. Una storia lontana ma una storia presente, è la presenza di lei. Posso credo affermare con tranquillità che la storia di Maria, la nostra signora del Pilerio e la storia di Cosenza si uniscono lungo i secoli. Cosenza ha sempre guardato a questa madre dolcissima come quella che protegge e accompagna il suo cammino. L'ha protetto nelle ore difficili, l'ha accompagnato in tutte le ore, liete e meno liete. In Maria si è sempre riconosciuta la nostra Cosenza, Pilerio, un pilastro, una colonna, questo è il significato. Un pilastro di fede e di devozione che non è venuto mai meno. Nel corso della celebrazione è stato reso omaggio alla Madonna con il rito dell'incoronazione. La grande fede e la devozione di tutto il popolo cristiano è stata sottolineata anche dalle parrocchie di culto bizantino, con canti in lingua greca. La grande fede e la parrocchie di culto bizantino è stata sottolineata anche dalle parrocchie di culto bizantino,